I finanziari del Comando Provinciale di Trapani, al termine di approfondite indagini di polizia economico-finanziaria nell'ambito della spesa pubblica, hanno individuato ed effeita alle competenti autorità giudiziarie 133 soggetti che percepivano indebitamente benefici economici del cosiddetto reddito di cittadinanza, per un importo complessivo di oltre 1.500.000 euro. L'attività operativa ha riguardato l'esame della documentazione acquisita, corredo della relativa domanda presentata, i cui dati sono stati incrociati con le risultanze delle banche dati in uso del corpo, nonché con opportuni accertamenti sul campo per accertare la veridicità di quando indicato dai soggetti richiedenti il sussidio economico. Singolare l'attività di indagine condotta d'iniziativa delle Fiamme Gialle di Castelvetrano, che ha preso in esame la correttezza dei dati anagrafici riportati nelle domande del reddito di cittadinanza, presentate da soggetti che, ragione di acclarate gravi carenze comportamentali, erano stati attinti da provvedimenti di allontanamento dei relativi figli minorenni. Infatti, ai sensi della vigente normativa, i figli minorenni allontanati non possono essere considerati quali i componenti del nucleo familiare dal quale siano stati distolti, e di tale variazione anagrafica occorre dare atto in sede di presentazione di domanda per l'accesso al sussidio in parola. Come noto, infatti, ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, occorre presentare un'apposita domanda, la necessaria DSU, dichiarazione sostitutiva unica nella quale indicare, tra l'altro, la composizione del proprio nucleo familiare. Venne così determinato l'ISEE necessario a stabilire gli importi da corrispondere al richiedente a titolo di sussidio. Dunque, le indagini esperite hanno consentito di accertare come 24 soggetti stanti avessero indicato nel proprio nucleo familiare anche relativi figli minori allontanati, ottenendo in tal modo accesso a maggiori indebiti importi a titolo di sussidio per un totale complessivo di euro 290.904,05. Grazie a tutti.